Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Rocinese Bello e vi farò vedere una partita in Arena 8. Ho trovato il minatore e l'ho trovato oggi con il mio cugino. Ascoltate un momento. Ok, allora vi farò vedere una partita in Arena 8 dopo perché io ho una partita 2 vs 2. Non sono tanto sicuro ora. Vado a vedere come va. 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 mettiamo un greber tattico e modigliosi grecati tattici intanto il mio di questo è il suo lavoro mettiamo la congel, poi ora mettiamo combo il miner e qua questo che mi piacca per favore facciamo il peccale che dà fumo nessun malissimo ora fratamma, fratamma lo scarico abbiamo perso questa partita, comunque non mi preoccupate, faccio un'altra scusate questo sito perchè è mezzanotte si sono alle 5 e mezzanotte, sono distraendo da mezzanotte mi raccomando lasciate un like, condividetelo, un pollice in su iscrivetevi e mettete un commento per un'altra partita e poi vi lascio mettiamo uno dei miei tattici, uno bello con l'esercizio mi raccomando questo non mi hanno fatto molto non mi hanno fatto quello che vedevo fare non mi hanno fatto un'altra partita un'altra partita non mi hanno fatto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.